Alessandro Tarquini, partiamo dai numeri importanti, quelli personali, il tuo, lo score capocannoniere. Va bene che era la prima giornata di campionato, ma già questo è un primo obiettivo raggiunto se vogliamo. Sì, personalmente fa piacere questa cosa, però l'obiettivo è unico, è quello di squadra, cioè vincere e affrontare domenica dopo domenica la partita. Tu sei un lancianese doc, ti sei rimesso in gioco, in discussione anche a Lanciano, Lanciano 1920 che parte con tutti i pronostici a favore. La prima sfida è andata benissimo, però sabato già c'è un altro impegno da non fallire, quello con il Vasto Marine. Sì, sì, ripeto, noi affrontiamo la settimana pensando all'obiettivo che era domenica, e conquistare i tre punti ogni domenica, sperando di riuscirci ogni fine settimana. Conosci bene l'ambiente vastese, ambiente vastese che nelle parole del presidente Pino Travaglini, di mister Rascatigno, sono molto positive nei confronti di Tarquini. Per sabato che gara ti aspetti? Sì, diciamo che è un ricordo molto piacevole quella di Vasto per quell'annata fantastica che abbiamo affrontato. Quindi domenica sarà emozionante per me rientrare nell'Aragona, perché comunque è stato veramente bello vincere il campionato lì. Ci affrontiamo una squadra ben attrezzata e quindi sarà difficile anche domenica. Non si può sbagliare, anche perché l'entusiasmo in città si è rimesso in circolazione. Tante le presenze annunciate all'Aragona di Vasto e anche questo è un altro aspetto che va considerato per voi. Sì, sicuramente anche domenica in casa non ci aspettavamo così tanto calore, ci siamo aiutati ad affrontare la partita. Ci aspettiamo lo stesso anche fuori casa a Vasto. Ecco, settimana la preparazione in vista di questa sfida, come è andata? Sì, sempre tutti concentrati, la squadra pensa solo ad affrontare la domenica e siamo pronti. L'ultima, tu sei un lancianese doc, ti senti anche di invitare i tifosi lancianesi a venire sabato allo stadio e soprattutto a sostenervi. Qual è l'invito di Alessandro Tarquini? Sì, sì, sicuramente noi ci aspettiamo appunto, data la prima di campionato, l'affluenza allo stadio, aspettiamo anche fuori casa una presenza così importante. Sì, sì, sicuramente noi ci aspettiamo. Sì, sicuramente noi ci aspettiamo.